Grazie a tutti. La Daga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Madronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. 16 presenti e assenti. Abbiamo il numero legale per aprire il Consiglio. il primo punto dell'ordine del giorno sono le comunicazioni della Presidente il Presidente sta scendendo quindi sospendo il Consiglio per un quarto d'ora e lo riapriamo tra 15 minuti grazie allora Consiglio Consiglio è riaperto nomino quale scudatore della seduta i consiglieri Carrus Benassi e Cercone allora la notte i suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi sono previa comunicazione alla Presidenza allora sono state presentate all'Assemblea due mozioni articolo 58 stanno facendo le fotocopie una è riguardante l'altra è riguardante il mercato io acquisisco le due mozioni ma non ritenendone urgente le porto in discussione un prossimo Consiglio prima di procedere scusate consigliere per favore per cortesia prima di procedere diciamo la discussione dell'ordine del giorno io credo che sia doveroso da parte anche di questo Consiglio diciamo e fare un minuto di silenzio il ricordo di quanto è successo a Parigi quindi chiedo ai consiglieri un minuto di silenzio grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti il primo punto è l'ordine del giorno comunicazione della Presidente in merito alla nomina del nuovo assessore alla scuola che è presente in aula prego Presidente sì grazie Presidente grazie consiglieri dunque finalmente posso presentare al nostro Consiglio la persona che sostituisce l'assessore Loris Antonelli che per ragioni familiari e personali insomma non è non ha potuto proseguire nell'impegno che insomma io ritengo che abbia anche svolto in modo meritevole nel nostro settimo municipio e ora presento a Diego Cerafoni che è un giovanissimo assessore il più giovane di tutti ma che per l'impegno insomma che porta avanti a livello anche del nostro territorio nell'associazionismo e nel diciamo anche all'interno dell'università ritengo che sia un contributo importante e da qui alla fine di questa consigliatura e anche per la specificità della delega che riguarda le scuole e la formazione e le politiche giovanile per cui insomma do il benvenuto all'assessore Cerafoni e mi auguro che questi prossimi mesi possano essere proficui sia per per noi per chi governa questo territorio ma soprattutto per le scuole e chi frequenta oggi le scuole e soprattutto i nostri futuri cittadini grazie grazie presidente non so se l'assessore voleva fare un breve saluto prego assessore Diego Cerafoni prego ringrazio il presidente e tutto il consiglio spero insomma di essere d'aiuto e di portare al meglio avanti questo mandato affidatomi sperando appunto di dare tutto quello che è tutto quanto possibile per la cittadinanza in particolare la delega che mi è stata mi è stata data grazie assessore allora andiamo al punto numero due punto numero due è stato inserito nell'ordine del consiglio perché era stato richiesto diciamo da sei consiglieri un consiglio secondo articolo 51 regolamento un consiglio su questa tematica in accordo con la presidente e con i firmatari della richiesta diciamo possa convenuto di discutere di inserire questo punto nell'ordine regione di questo consiglio e quindi illustrare la nota il documento e fare una discussione durante questo consiglio su questo punto quindi do la parola alla presidente Fantino prego sì grazie presidente allora come tutti i consiglieri sanno dopo la prematura fine della consigliatura del sindaco Marino il comune di Roma è stato commissariato dall'attuale dottor commissario straordinario Tronca il quale si avvale di cinque subcommissari con delle deleghe specifiche e in particolar modo ognuno di questi commissari salvo il commissario io non posso alzarla di più chissà il volume adesso chiediamo se possono alzare il volume Lello dove Lello non c'è stavo dicendo allora questi subcommissari hanno delle deleghe specifiche e parallelamente sono stati delegati dal commissario Tronca a seguire due o tre municipi nel caso nostro ci troviamo insieme ad altri due municipi e dunque abbiamo come referente il subcommissario Panini d'Alba poco prima che venisse nominato il commissario straordinario Tronca sono pervenuti ai municipi da parte del segretario generale la richiesta direttamente fatta ai direttori dei municipi di definire le priorità rispetto al bilancio approvato e alle necessità di verifiche per l'assestamento che come tutti sanno entro il 30 novembre dovrà essere presentato nel frattempo è stato nominato il commissario Tronca e molti presidenti esclusi diciamo tutti quanti i presidenti esclusi dalla prima convocazione dei direttori municipali abbiamo in qualche modo rappresentato la necessità che fossimo convocati in quanto presidente cosa che poi da lì a breve fu fatta e ci fu questo primo incontro con il nuovo commissario straordinario i direttori dei municipi e i presidenti questa premessa la faccio perché in quella occasione alcuni di noi presidenti già si presentarono con la lettera richiesta solo ai direttori contro firmata anche dai presidenti e che nel caso di questo municipio ha voluto riproporre ciò che dalle verifiche fatte dai nostri uffici per ragioni di armonizzazione cioè per ragioni che i fondi destinati ad opere e a diciamo a lavori di manutenzione o lavori straordinari sono o vengono definanziate laddove non si riesca a garantire la conclusione dell'ultimo intervento dell'ultimo servizio erogato entro il 31 dicembre e nel caso nostro erano state cancellate o definanziate diverse opere quasi per un ammontare di 700 mila euro e per ragioni di patto di stabilità era stato cancellato anche sia l'intervento previsto insomma ormai anche da qualche anno della via Demetriadi all'ex nono municipio e il corridoio verde sempre dell'ex nono municipio allora noi la scelta che fu fatta con gli uffici è stata quella di riproporre esattamente ciò che c'era stato cancellato nell'ottica che per l'assestamento avremmo dovuto prima conoscere non solo il delegato al bilancio che al momento non era stato nominato è stato nominato dieci giorni dopo e parallelamente il sub commissario delegato al municipio con i quali avremo avuto modo di verificare effettivamente le disponibilità dell'amministrazione e su quella base poi proporre e definire all'interno dei nostri municipi le eventuali priorità dunque questa lettera ha la caratteristica di rappresentare fondamentalmente tutte le necessità che erano già state approvate nel bilancio del 2015 cioè a marzo più i nodi che non sono diciamo non corrispondono chiaramente a delle stime o comunque a dei fondi di bilancio ma corrispondono piuttosto a delle problematiche di carattere generale che possono alle volte essere semplicemente procedurali altre volte sono questioni insomma che riguardano diversi ambiti diverse amministrazioni o diversi livelli di problematicità allora questo è diciamo l'insieme e dunque passo a leggere anche se i consiglieri già ce l'hanno questa che è stata la lettera scritta dal direttore e controffirmata da me e che riguarda le questioni di rilevanza prioritaria delle strutture capitoline lo dico anche per chiarire che ciò che è prioritario riguarda un bilancio 2015 che se ce lo ricordiamo già fu oggetto di riduzione insomma di risorse dunque noi riteniamo che ciò che all'epoca fu approvato sicuramente sono opere prioritarie sono interventi che il municipio necessita e dunque chiaramente da questo punto di vista di per sé sono loro stesse una priorità allora come cappello abbiamo posto come questioni prioritaria un dato che è comune a tutti i municipi e nella riunione che abbiamo poi avuto con il commissario Tronca abbiamo fortemente ribadito il tema riguarda le risorse umane voi tutti sapete che non solo non sono stati negli anni sostituiti le persone che sono andate i nostri dipendenti che sono andati via via in pensione ma a causa anche della rotazione necessaria per questione diciamo di procedure legate all'anticorruzione o comunque alla garanzia della trasparenza amministrativa ha determinato una serie di rotazioni in tutto il comune di Roma che benché necessarie nell'assenza di sostituzione di personale nell'assenza di bando per ridefinire le posizioni organizzative nel caso dei municipi accorpati come il nostro nella necessità di ottenere come abbiamo più volte sollecitato un riconoscimento di una maggiore quantità di posizioni organizzative queste necessità sono state ampiamente rappresentate da tutti noi perché le attività il front office che rappresentano i municipi in quanto erogatori di servizi e fondamentalmente di manutenzione sia di strade che di edifici se non hanno o non sono accompagnati dal personale necessario non solo si trovano in serie difficoltà ma ad esempio una delle attività che ricadono su di noi per esempio pensando alla nuova possibilità data dal piano casa e dunque dalla necessità di verifiche e di spettorato da parte dei nostri uffici l'assenza del personale qualificato e adeguato può comportare per l'amministrazione pubblica e dunque anche per il municipio una diciamo ridotta capacità di controllo controllo che oggi sempre di più è necessario anche alla luce di tutte le vicende di tutte le situazioni che voi avete potuto verificare e apprendere insomma dai giornali e relative questioni legate poi insomma a temi diciamo un po' più complessi come è stato la corruzione o mafia capitale allora non si può chiedere a un municipio a un ente di prossimità di garantire diciamo il controllo del territorio di garantire la correttessa delle procedure se parallelamente non siamo dotati da strumenti umani sia in termini di profili e di competenze ma anche in termini di quantità poi poi scusate no no non si può signora Grazia prego allora poi per quanto riguarda la spesa sociale che anche per quanto riguarda diciamo le risorse finanziarie assegnate abbiamo sempre ritenuto che fossero sottostimate chiaramente è stata comunque anche la voce più protetta tendenzialmente che però non significa che di fronte a una fase insomma in cui la crisi economica la mancanza di lavoro la necessità spesso di avere un maggior supporto da parte dell'amministrazione dello Stato beh chiaramente la riduzione delle risorse ma è suo scusate dicevo dopo l'interruzione del consigliere Matronola ma si può anche mettere un cappotto consigliere ma sarà l'età allora allora stavo dicendo che dal punto di vista delle risorse sociali per le politiche sociali che abbiamo bisogno queste evidentemente benché comunque sempre attenzionate prioritariamente da parte dell'amministrazione chiaramente sono sempre sottostimate rispetto alla nostra necessità tra l'altro noi in questo territorio abbiamo anche un problema per quanto riguarda l'emergenza abitativa piuttosto significativo abbiamo anche una serie di problematiche riguardo alle persone più fragili che hanno necessità dagli anziani ai bambini ai diversamente abili dunque al supporto che va dato loro e beh insomma tutte queste voci corrispondono a dei capitoli di spesa che necessitano di essere garantiti e per questa ragione noi abbiamo anche riproposto e fatto un'operazione che ci è stata sempre richiesta in una seconda lettera da parte dell'amministrazione che laddove si verificasse l'impossibilità dunque di correre il rischio come dicevo prima che per armonizzazione fossero definanziati una serie di progetti cioè progetti o interventi che riguardavano i lavori pubblici potessimo riproporre per pari cifra su ciò che invece si poteva spendere entro il 31 dicembre e che riguardava invece le voci delle politiche sociali cosa che l'ufficio e la direzione hanno fatto riproponendo nel tentativo nella speranza di non perdere queste risorse e poterle riutilizzare per garantire o l'abbattimento delle liste di attesa o diciamo l'ampliamento in base alle necessità le richieste o come nel caso di alcuni bambini con disabilità che sono entrati nelle scuole successivamente allo stanziamento precedente insomma del bilancio la possibilità anche per loro di essere coperti e credo che insomma se questo verrà approvato o in tutta parte cosa che ritengo difficile ma comunque in una quota parte sicuramente potremmo dire che almeno abbiamo recuperato una parte di queste risorse che erano state destinate al municipio per quanto riguarda i lavori pubblici noi abbiamo esattamente comunque riproposto rifacendo l'elenco di tutte le opere che erano state per armonizzazione cancellate come vi dicevo prima per quanto riguarda invece le questioni o le problematiche in definizione che sono quelle problematiche che più volte sono state segnalate condivise con le diverse realtà comunità e comitati di quartiere adesso facciamo un esempio il nodo Ananina è una priorità per questo municipio o più volte ribadito in tutte le sedi che è una priorità anche cittadina visto che contiene una delle fermate più importanti della metropolitana nonché un parcheggio che riceve pullman provenienti da altre nazioni dunque da questo punto di vista il degrado la mancanza di sicurezza la mancanza di utilizzo di tutti gli spazi diciamo dei locali che stanno nella parte sottostante l'aria nella necessità di riqualificare e garantire una maggiore manutenzione dal punto di vista della raccolta dei rifiuti e comunque delle aree così verdi che ancora sussistono beh questo abbiamo ritenuto che è uno dei nodi strategici e che io ho chiesto in più occasione che venisse anche messo all'attenzione delle opere che dovevano in qualche modo essere realizzate durante il giubileo siccome questo non è stato fatto fino adesso ovviamente è stata ribadita la necessità di tenerne conto poi abbiamo come problematiche tutte le realtà che sono diciamo storicamente presenti nel territorio come ad esempio l'associazione culturale Rosso 2000 in via Filippo Serafini è conosciuta come cortocircuito il centro polivalente di via Mantea via Polia la biblioteca cittadini del mondo i locali via Marco Dino Rossi affidati al comitato di sviluppo locale il centro sociale di via Marco Dino Rossi che vorremmo che diventasse un centro anziani che insomma che è dunque riconosciuto gli immobili del piano di zona di Tor Vergata con sfratto il 19 gennaio 2016 il centro polifunzionale osteria del curato che dovrà essere destinato e i comitati cittadini ci chiedono che venga destinato per attività di quartiere dunque anche questo dobbiamo in qualche modo garantirne nella diciamo nella più chiara ma soprattutto definita insomma destinazione la ex pista ciclabile di Viale Giulio Agricola che è un altro problema che è rimasto lì e non siamo riusciti a venirne fuori e questo in qualche modo lo si stava perorando e cercando di risolvere con la precedente amministrazione mi auguro che ora con i poteri nelle mani del commissario straordinario alcune cose possano essere risolte più rapidamente di quanto sembrava potessero esserlo prima durante l'amministrazione eletta insomma e dunque con tutte le diverse istanze giunta consiglio commissioni e anche insomma altre amministrazioni poi il punto verde qualità di Rocca di Papa anch'esso bloccato da anni e per ultimo il parcheggio Arco di Travertino che è un parcheggio che aveva una destinazione in origine di nodo di scambio e successivamente la superficie doveva essere destinata a attività e funzioni per il territorio e parallelamente un'area ad attività commerciali e quest'opera è stata consegnata all'amministrazione non al municipio con diciamo una terminazione rustico e noi precedentemente avevamo fatto una serie di proposte nell'ex nonno municipio che non sono mai andate in porto e riteniamo che abbandonare quell'aria quello spazio lasciando insomma all'intemperio insomma senza nessuna cura non solo è uno spreco se consideriamo che lì sono stati spesi ben 30 milioni di euro per la sua realizzazione ma soprattutto è uno spreco anche in termini di spazi che si potrebbero destinare alla ASL come abbiamo chiesto alla casa come si chiama alla casa della salute o comunque sia a qualche servizio per la cittadinanza insomma che visto e considerando che c'è una diciamo fermata della metropolitana e un ampio parcheggio grazie mille sia una cosa insomma assolutamente da garantire insomma comunque da affrontare per il resto non al momento le notizie che abbiamo sono che il nuovo subcommissario Panini d'Alba ha chiesto un incontro con me dunque questo lo faremo credo la prossima settimana e appena avremo chiarito insomma anche è valutato le possibilità le procedure le risorse sulle quali il municipio potrà contare questo chiaramente sarà oggetto poi di approfondimento da parte delle nostre commissioni e della giunta grazie 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 scusate signora per cortesia non può parlare allora apriamo apriamo la discussione allora chi vuole l'intervista consigliere c'è alcuni prego gentile presidente gentili assessori e tutti i consiglieri la volontà oggi di portare di portare in municipio in consiglio municipale questo argomento nasce dall'opposizione e dalla volontà di riportare qui che è il luogo adatto alla discussione quello che è la dinamica politica il colloquio politico tra le varie forze di questo municipio allora la è chiaro qual è stata la dinamica in questi tre anni il municipio quasi tre anni questo consiglio municipale ha completamente perso la sua forza e l'ha persa in virtù anche e presidente me lo conceda del ruolo che lei ci ha relegato so presidente sono magari poco interessante ma sto parlando anche con lei presidente del municipio del municipio sì e questo perché poche volte noi abbiamo avuto l'onore di vederla qui e il fatto che ci sia stata una lettera della quale nessuno di noi se non alcuni della maggioranza erano informati lo dimostra allora cerchiamo di capire un attimo qual è la dinamica perché visto che siamo ripresi siamo ripresi da un emittente che ringraziamo che ringraziamo dobbiamo capire effettivamente il commissario Tronca sembra aver scavalcato completamente il ruolo del consiglio e del presidente tentando poi di riagganciare insomma di recuperare la situazione chiamando oltre al direttore anche il presidente del municipio e un'altra volta scivolando tutti eh certo tutti i municipi ma non stiamo parlando di questo presidente lei è del settimo non so se si ricorda che siamo nel settimo municipio e stiamo parlando di questo municipio quando diventeremo comunali parlerò di questo per favore per ora parliamo di questo cosa è successo lei ha convocato i vari gruppi di opposizione uno per uno ascoltando e spiegando la situazione Fratelli d'Italia questo l'ha apprezzato l'ha apprezzato però nella dinamica in cui poi si deve svolgere il confronto politico che è questa che è questa sede io mi sono segnata sinceramente alcune cose perché ritengo veramente importante oggi un confronto tra di noi più che con con la presidente e con i consiglieri perché difficilmente abbiamo modo di colloquiare di confrontarci su un tema così importante essendo spesso presi insomma dai problemi del quotidiano io ho ascoltato e letto il documento che non mi è stato fornito dalla presidente o dagli assessori ma mi è stato dato e ringrazio da consiglieri di altre parti politiche questo signore c'è un problema c'è un problema di colloquio presidente con lei allora io leggo il documento e leggo problemi in via di definizione per quanto riguarda tutta la parte delle opere cancellate per armonizzazione e per il fatto di stabilità su quelle conveniamo anche i fratelli d'Italia dalla parte sua che sono opere che si devono fare e che si devono portare avanti il problema però è sulle opere in via di definizione perché per quanto riguarda le opere in via di definizione io leggo esclusivamente che si fanno lavori e questa è una sensazione che io ho per accontentare qualcuno o qualcosa cioè abbiamo sempre solo parlato di cortocircuito messa al primo punto della definizione delle opere in via di definizione in via di definizione cosa significa presidente che le abbiamo iniziate che non le abbiamo terminate o che sono effettivamente delle priorità perché è stato presentato come documento sulle priorità dei municipi quelle che le ha messo nero su bianco sono effettivamente delle priorità e ha messo nero su bianco delle priorità che riguardano nella maggior parte dei casi e il 90% dei casi riguardano lavori all'ex decimo municipio significa che ci siamo completamente dimenticati per esempio dell'ex nono municipio se non per il punto verde qualità di via Rocca di Papa io le ricordo presidente che c'è tutta altra parte di municipio ricordavano c'è Gregna ma c'è anche San Giovanni io leggo una lista di quelle che lei definisce problemi in via di definizione ma che poi effettivamente sono delle priorità che lei ha dato associazione culturale Rosso 2000 ma quando mai quando mai in questo consiglio è arrivata una richiesta di risoluzione di un problema a corto circuito non è mai successo forse si sono visti con lei e allora lei ha ritenuto opportuno far presente a Tronca che questa era una problematica del municipio non solo centro polivalente di via Mantè angolo via Polia questa è una cosa che ho portato via avanti per esempio e in parte ne sono anche contenta ma non la ritengo ma non la ritengo mi perdoni una priorità di questo municipio biblioteca cittadini del mondo per esempio cioè noi stiamo facendo dei lavori per delle cose già assegnate e ne beneficeranno quelle persone noi abbiamo intenzione di intervenire per tutti i cittadini o solo per quei cittadini che già usufruiscono di servizi spesso molto vicini a chi comanda perché questo è il problema lei giustamente ha deciso di porre in attenzione al commissario Tronca ciò che lei riteneva ma a me non risulta per esempio che il centro polivalente via Vantea via Polia che è uno degli argomenti che posso dire di conoscere abbastanza bene dopo essermi letta penso almeno un centinaio di volte tutte le ordinanze su quella cosa siamo fermi ma non siamo fermi da ieri siamo fermi da un bel pezzo e di sicuro non è uno di quei non è uno di quegli argomenti che alle persone che sono qua interessa con tutto il bene che io su quel centro voglio che sia trovata una soluzione ma che sia trovata una soluzione seria perché ripeto facciamo i lavori sembra proprio per accontentare singole associazioni o singoli personaggi questo municipio ha necessità e necessita mi ripeto un'altra volta di trasparenza quindi lei che cosa intende in via di definizione li definiamo e poi facciamo un bando per assegnarlo in trasparenza ampliandole alle associazioni perché se così non è presidente queste non sono le priorità del municipio e poi volevo riguardo ai problemi di carattere generale non può che trovarci d'accordo questo si ma su quei nuovi punti il presidente quando lei legge e sorride lo so che sorride perché quando mi legge l'associazione Rosso 2000 e mi racconta che è il primo lavoro da fare quando un commissario legge è entrare nel centro sociale e fare cosa lo deve ristrutturare che cosa ci deve fare ma la gente che sta fuori e ai genitori che hanno i figli handicappati che non vanno a scuola perché non abbiamo l'AIC ai signori che cadono per terra perché Furio Camilla è messo male lei racconta che va a ristrutturare un centro sociale cioè se voi vi fate carico di raccontare alla gente questo Fratelli d'Italia questo carico non se lo prende perché queste non sono le priorità di Fratelli d'Italia abbiamo un problema sicurezza le ricordo una mappatura di tutte le mosche sul territorio la vogliamo fare a Via Ceneda davanti la scuola a Via Ceneda durante la scuola per voi non è una priorità però diciamolo che è una priorità non sarà una priorità per voi davanti la scuola abbiamo un centro dove si prega e non è un centro che è in regola con le direttive con le direttive stabilite in materia non solo vogliamo fare degli spazi giovanili di aggregazione va benissimo ma li dobbiamo dare a quelli che già ce l'hanno ai centri sociali che già ce l'hanno vogliamo favorire solo quelle associazioni che già ce l'hanno noi non ci stiamo a questo gioco e colgo l'occasione per ricordare al presidente che avete presentato come assessore alla scuola che mi ricordava ci conosciamo da vecchia data dai tempi dell'università e già lì si faceva politica e si discuteva è anche assessore alle politiche giovanili e non se lo dimentichi perché oggi più che mai i ragazzi giovani e devo essere contenta del fatto che qui noi siamo indiversi ad essere sotto i 30 anni quindi un consiglio devo dire relativamente giovane hanno bisogno e necessitano di spazi aggregativi gli spazi aggregativi non è cortocircuito perché lo sappiamo sono spazi aggregativi diversi se vogliamo aiutare questi giovani aiutiamoli nell'inserimento del lavoro favoriamo questi tipi di politiche ma per favore non ci dimentichiamo che nella scuola rientra anche i servizi educativi e quindi le politiche giovanili e poi tutto il resto assessore e presidente c'è un minuto e concludo prego prego di solito sto sempre nei tempi manutenzione stradale abbiamo i marciapiedi che fanno schifo per lei non sono priorità cioè lei ritiene prioritario andare nella biblioteca cittadini del mondo sistemarla a cortocircuito sistemarlo piuttosto che mettere quei soldi a servizio dei cittadini e risistemare alcune porzioni di territorio che effettivamente sono state completamente abbandonate a se stesse e concludo dicendo che Fratelli d'Italia sicuramente porterà avanti il suo lavoro nel consiglio all'interno del consiglio municipale e sosterrà la validità di questo consiglio municipale se ci sarà una dialettica politica se le decisioni verranno se le decisioni verranno stanno ammazzando qualcuno probabilmente qua poi se le decisioni verranno discuste e solo se verrà ripristinata la centralità di questo municipio e del consiglio tutto che è l'organo deputato a prendere decisioni nell'ambito della dinamica politica solo così questo municipio vale la pena di esistere ha ragione di esistere altrimenti signori miei dobbiamo andare tutti a casa grazie grazie consigliera Cercuoni altri interventi consigliera Lozzi prego ok lo so puoi dire un attimo di vincere per favore un po' di tranquillità grazie prego consigliera Lozzi allora personalmente come movimento non intendo entrare nel merito delle opere perché è proprio il sistema che è andato fuori fuori controllo ma non da adesso che c'è il commissario ma da sempre nell'incontro con la Presidente è emerso che apparentemente il commissario Tronca sta un po' esautorando il potere dei Presidenti ma noi da due anni e mezzo assistiamo a una gestione di municipi e comune in cui viene completamente esautorato il ruolo del Consiglio Municipale che è quello di indirizzo e controllo quando noi andiamo a presentare delle opere non l'abbiamo non l'abbiamo mai condivise non dieci giorni fa ma nell'arco di tutta la Consigliatura con il Consiglio con i consiglieri che hanno contezza di tutto il territorio delle criticità che emergono è normale che poi quando si vanno a presentare un elenco di probabili interventi che sembrano essere più urgenti poi la reazione è quella che ha avuto la Consigliera e probabilmente quella che hanno a volte i cittadini non ho capito mi sembra che parlava di Gregna la signora Gregna è un esempio Gregna è stata abbandonata è stata completamente abbandonata l'unico intervento che abbiamo potuto fare è parlare dei consorsi perché una delle forti criticità per le quali Gregna non viene riqualificata è perché nel consorzio ci sono i soldi ma il consorzio non si trova il modo di farlo operare eppure è costituito con delibera del Consiglio Comunale con dei fondi pubblici che hanno raccolto dai cittadini a seguito del condono edilizio e quello è un esempio loro non hanno strade e là probabilmente ci saranno dei pellegrini che non potranno permettersi di abitare o di risiedere per il giubileo al centro di Roma e che quindi sceglieranno delle zone periferiche e che forse per arrivare fino alla metro a Nagnina avranno difficoltà di mezzi avranno difficoltà di spostamento è vero che stiamo parlando di periodo giubilare che i fondi sono quelli e quindi non potranno essere utilizzati per tutto ma ci sono delle cose comuni a tutto il municipio noi da San Giovanni a Vermicino abbiamo il problema della manutenzione stradale da San Giovanni a Vermicino abbiamo il problema della segnaletica orizzontale segnaletica che ha visto più morti in questo municipio che penso che in tutta Roma solo sulla Nagnina nell'ultimo anno sono morte quattro persone l'altro giorno su via Papiria la maggior parte sugli attraversamenti stradali non più segnalati oppure che necessita di una segnalazione maggiore cioè dei led luminosi non riusciamo a chiedere a un commissario in periodo giubilare dove ci sarà un numero elevatissimo di persone che nella maggior parte dei casi saranno pedoni un'accortezza per quanto riguarda la segnaletica orizzontale in un municipio che ha le due grandi arterie commerciali penso le più grandi di Roma tolto il centro cioè Tuscolana e Appia dove anche là ogni volta che si attraversa la strada un pedone corre dei rischi quindi probabilmente dobbiamo rivedere un po' il ruolo che abbiamo avuto fino ad oggi come consiglio il ruolo che fino ad oggi ha avuto la Presidente con la Giunta e probabilmente per acquisire un potere maggiore per riprendere la dignità che ci è stata tolta in questi anni al punto di vista politico probabilmente dovremo costruire dei percorsi insieme e dei percorsi insieme si costruiscono confrontandoci nelle commissioni con la presenza dei commissari con la presenza degli assessori competenti e a volte anche con la presenza della Presidente che tanto rivendica il suo ruolo in questo momento ma che spesso si è sottratta proprio a questo ruolo quando veniva richiesta la sua presenza su determinati argomenti anche molto importanti nelle commissioni noi non sappiamo cosa andremo a fare in quest'anno se sarà solo fino a giugno perché noi non sappiamo magari durerà fino al 2017 noi rischieremo in questo periodo di non avere più controllo del territorio rischieremo che il commissario dai passi tutta l'attività politica rivolgendosi direttamente alla parte amministrativa può essere che in questo periodo cadano cose assurde sui territori e noi non avremo nessun controllo ma perché già da prima noi non avevamo più dignità politica come istituzione di prossimità quindi noi è su questo che ci dovevamo battere ma non oggi da sempre e questa è una cosa che io ripeto da due anni e mezzo che al di là degli schieramenti politici se noi vogliamo ottenere dei successi per i nostri cittadini per la nostra gente per il nostro territorio dobbiamo combattere uniti per delle priorità che sono imprescindibili che non sono né di destra né di sinistra sono delle esigenze del territorio e ad oggi ci ritroviamo con un commissario che probabilmente non ci darà più ascolto ci continuano ad arrivare pareri su cose di cui un'unica persona deciderà il futuro di questa città nel prossimo anno anno e mezzo due anni allora cerchiamo di sfruttare il fatto che i consigli municipali sono rimasti in piedi per recuperare questo ruolo per tutelare i nostri territori e per tutelare i cittadini che vi abitano grazie scusate non è possibile non si possono battere le mani per favore per favore c'è problema compito mio è anche avvertire quindi allora altri interventi ci sono altri interventi se non ci sono altri interventi giuro qui la discussione consigliere Giuliano grazie presidente del consiglio presidente del municipio assessori e colleghi consiglieri allora l'introduzione fatta dalla dalla presidente mi fa venire in mente una riflessione una riflessione che tocca sia l'aspetto ovviamente amministrativo di come oggi la città si trova nella condizione strutturale e maggiormente dal punto di vista politico dal punto di vista amministrativo quello che le ha detto prima è la verità insomma quindi gli uffici i municipi i comuni i dipartimenti stanno allo sbando per cui questa vertiginosa velocità nel cambiare i dirigenti i funzionari eccetera ha prodotto dei danni speriamo non irreversibili ma sicuramente dei danni perché ha rallentato notevolmente le attività diciamo giornaliere quotidiane dell'amministrazione e questo è sotto l'occhio di tutti basta insomma rendersi conto di quello di come sono combinati gli uffici in genere dal punto di vista politico invece mi è sembrata un po' una come si dice un programma elettorale nel senso che lei nel fare la sua affermazione riprende quelli che erano i concetti che probabilmente aveva già in mente con la sua maggioranza di poter portare a termine o perlomeno di poter proporre a diciamo alla città di Roma e quindi al consiglio comunale e avere le relative i relativi diciamo e monumenti e soldi per poter portare avanti questi progetti mi lascia un po' perplesso quando lei poi entra nel merito dicendo che è la gaff che ha fatto il commissario straordinario che la dice lunga nel fare una gaff di questo tipo quindi probabilmente un uomo di Stato che non si è reso conto che i municipi sono rimasti in carica e che hanno il loro rappresentante ovviamente sia politico ma anche amministrativo mi risulta un po' simpatica ma non chissà per quale motivo perché anche perché vedo che c'è il direttore del municipio in aula che le priorità no? cioè la lettera fatta dal direttore sia stata fatta a prescindere perché ovviamente essendo un uomo da poco non è che può conoscere gli argomenti su cui questo municipio ha lavorato quindi essere stato chiamato anche in forma sbagliata cioè senza la parte politica dal commissario prefettizio voglio dire che lui possa aver messo tutti quei contenuti mi sembra strano se non ovviamente aiutato da chi di dovere quindi dalla parte politica e in questo caso dal presidente del municipio dico questo perché perché è ovvio che l'indirizzo quindi il fatto di recuperare forma e contenuti rispetto a chi di dovere quindi al al commissario nell'aver chiesto al direttore non al presidente del municipio quindi alla parte politica si è voluto correggere questa diciamo distorsione però certo che i contenuti io non posso pensare che siano del direttore che non conosceva ovviamente il territorio e quindi che lei abbia influito ovviamente nel mettere no nella lettera mettere delle cose ben precise ora al di là di quello che può essere diciamo che si può condividere o meno entriamo nel ragionamento politico istituzionale noi ci troviamo in un quadro romano che è tra i peggiori negli ultimi vent'anni trent'anni di politica romana quindi una una città che non è più governata in questo momento e non è governata per tanti motivi ma una delle colpe maggiori io sono il primo a dirlo è dalla parte politica perché chi deve comunque essere il rappresentante democratico istituzionale di chi ti vota quindi della gente della popolazione dei cittadini non è riuscito a tenere questo quadro va bene per colpe singole e per colpe di un sistema politico che oggi a tutti i livelli quindi partiamo dal nazionale fino a scendere non è stato mai all'altezza del proprio ruolo questo perché perché non è figlie questa cosa non è figlio di un meccanismo territoriale è figlio di una politica nazionale cioè quando tu non riesci a governare quindi non riesci a ognuno a mantenerlo nel proprio ruolo e quando ci sono invasioni di ruoli quindi per esempio la magistratura che dovrebbe avere uno specifico riferimento e fa politica perché entra dove la politica non riesce a governarsi quindi è normale che poi c'è confusione e quindi si perde ovviamente di ruolo si perde di consistenza non si riesce più a tenere una linea e dal nazionale scendiamo al regionale al comunale e al municipale cioè noi che siamo l'ultima ruota del carro ovviamente soffriamo maggiormente di tutte queste situazioni perverse strane e non volute che quindi dobbiamo subire è normale che poi la gente viene qui e ci chiede sempre a noi perché come sistema di prossimità di rappresentanza chiede a noi di dover dare delle risposte che noi non anche volendo non riusciamo a dare perché siamo sempre a come si dice all'atere di tutto il procedimento siamo sempre quelli che per ultimi dobbiamo cercare di dare delle risposte senza sapere poi e conoscere argomenti o notizie che sarebbero utili per dare le risposte e allora io penso che al di là del contenuto della lettera che secondo me dovremmo ridiscutere Presidente proprio in virtù di un ragionamento diverso tranne alcune cose che sono alla luce del giorno quindi a Nagnina il terminal è fondamentale quindi è un bietto da visita nostro arco di travertino sono meccanismi insomma che reggono in piedi tra virgolette per funzioni differenti questo municipio accorpato poi non entriamo proprio nella lista della spesa perché quello secondo me è un altro ragionamento che non ci farebbe onore se andiamo a fare questo tipo di percorso noi dobbiamo mantenere dobbiamo fare in questa fase ed è l'ultima chiamata alle armi che secondo me dobbiamo capire in questa fase dobbiamo difendere il ruolo del municipio e di conseguenza dei municipi perché se il quadro è quello di non tener conto della rappresentanza democratica della città se il quadro di chi ci sta commissariando non tiene conto dei ruoli il quadro di chi ovviamente tende con un'aggiunta tecnica i cinque sub commissari sono un'aggiunta ristretta di gestire quello che loro pensano di poter gestire senza tener conto ovviamente di quello che arriva dalla base è facile fare la sommatoria di questo per arrivare a contare zero quindi se in questo momento noi non siamo consapevoli di cercare di mantenere questo ruolo cercare di farci rispettare non lo abbiamo fatto in altri in altri in altri momenti in altre situazioni dove potevamo comunque far sentire la nostra voce questo penso che sia l'ultima opportunità perché se è vero che ci hanno lasciato in carica per cercare di portare avanti quello che è possibile portare avanti beh non possiamo noi chiuderci in disquisizioni partitiche non possiamo chiuderci in controversie politiche ma dobbiamo fare un quadro a difesa dell'istituzione che rappresentiamo questo voglio dire perché al di là come diceva prima la collega che mi ha preceduto ovviamente dobbiamo un po' toglierci da dosso i colori i colori non aiutano in questa fase anche perché non c'è più un indirizzo politico centrale non c'è più la giunta non c'è più il sintaco non c'è più un consiglio quindi noi non rappresentiamo più quello che deriva da un'elezione del 2013 noi siamo quelli che dovremmo essere e dare il contributo oggi per cercare di attenuare queste difficoltà noi dobbiamo essere quelli che dobbiamo cercare di risolvere questo procedimento che comunque ci porta ad essere nulli nelle nostre decisioni e nel nostro ruolo dobbiamo cercare di riavere dignità e di farla avere anche all'amministrazione perché io ripeto sempre l'ho detto nello scorso consiglio i ruoli amministrativi e politici devono camminare a bracetto cioè devono comunque camminare in parallelo e aiutarsi nelle loro funzioni perché non si possono prescindere l'uno dall'altro se no andremmo cioè si creerebbe ancora maggiore differenziazione di risultato e di contenuto e di strategia quindi dobbiamo essere compatti e trovare quello che possa essere più idoneo oggi nel poco tempo che ci rimane per poter dare risposte al territorio se riusciamo ad avere visto l'andazzo che comunque non penso che terranno conto delle dimostrazioni che noi altri municipi ciao un minuto consigliere Giuliano è ovvio che noi dobbiamo cercare di battere su alcuni punti fondamentali a costo anche di andare lì come consiglio come componente come rappresentanza andare in comune a farsi ricevere e discutere con i commissari i subcommissari con i ispettori chiunque esso sia ma non possiamo lasciare a terzi a chi di dovere gestire la nostra situazione perché se no effettivamente questo ruolo che ci hanno lasciato ci prendono in giro due volte perché ci hanno lasciato in funzione ma non avremmo comunque voce in capitolo questo non è che altre volte ce l'abbiamo avuta chissà quanta ma oggi è ruolo per far capire un po' e chiudo grazie presidente per far capire un po' che cosa significa decentrare per far capire a chi dovere se non riusciamo per noi oggi ma perlomeno per chi verrà mettere un tassello per dire se non si decentrano alcune funzioni quindi tra le prime le risorse umane per far funzionare una macchina ok come questa come quella del municipio cioè se non si decentrano alcune funzioni alcune risorse va bene non ci sarà futuro questo perché poi ci si allontana troppo dai problemi territoriali ci si allontana da un quadrante che è il municipio nostro grande da San Giovanni a Vermicino e non si capiscono poi quei quartieri che hanno più bisogno rispetto ad altri consigliere Giuliano abbiamo capito comunque perché non hanno avuto voce in capitolo nei tempi e che oggi potrebbero avere delle risorse rispetto a quelli più fortunati che hanno già diversi grazie consigliere Giuliano ho finito Presidente mi dia 12 secondi 10 va 10 grazie quindi rispetto a quelli è importante Presidente fare questo quadro oggi dobbiamo cercare di equilibrare dove è possibile le carenze di alcuni quadranti rispetto ad altri perché ci sono alcuni che hanno tutto tranquillamente e altri che non hanno neanche lo spazio dove incontrarsi questo è fondamentale questa la politica riprenderebbe il ruolo riprenderebbe il ruolo la polis e la centralità democratica di questi grazie grazie consigliere Giuliano altri interventi consigliere Benassio Cofano Cofano prego grazie Presidente consigliere di tutti innanzitutto colgo l'occasione per fare gli auguri al neoassessore Ciarafoni augurandogli un buon lavoro e a tutte le potenzialità per farlo tornando sul tema io parto da un presupposto insomma che il commissariamento porta in gioco che comunque va istruita e portata avanti l'ordinaria amministrazione però va fatta bene altrimenti rischia di diventare qualcos'altro e da alcuni interventi insomma mi hanno preceduto insomma noto che c'è particolare attenzione comunque su una discussione su quali sono le priorità individuate dalla Presidente Fantino dalla Giunta e quali fossero poi in realtà diciamo le aspettative del municipio le aspettative della della cittadinanza il discorso è che poi si guarda un po' troppo a stretto raggio perché noi abbiamo fatto una discussione mi riferisco a qualche intervento che mi ha preceduto diciamo su eventi o comunque atti che hanno contraddistinto i nostri due anni e mezzo di consigliatura però poi non so perché ma non si riesce mai a guardare poi a fondo con memoria storica i reali processi che poi hanno portato a determinate scelte faccio un esempio non so io non voglio entrare nel merito delle priorità perché però citare Furio Camillo come esempio dicendo che comunque Furio Camillo per quale motivo oggi non si va da tronca e si dice che Furio Camillo va risistemata Furio Camillo va risistemata da 5 anni da 6 anni Furio Camillo c'è un procedimento amministrativo in corso c'è un concessionario che ha fallito e che c'è un contenzioso ancora in atto per cui finché non si risolve il contenzioso ne abbiamo parlato decine di volte di questa cosa farli cicciare oggi come temi così d'amblè dopo che non se ne è più parlato per un po' di tempo mi sembra alquanto demagogico e alquanto poco produttivo perché significa che dopo il commissariamento ci sono le lezioni e quindi è anche giusto che mi faccio vedere su alcuni temi dall'altro su Via Furio Camillo ho avuto modo perché anche insomma presidendo la commissione lavori pubblici ne abbiamo parlato in più occasioni ho notato che nelle ultime settimane c'è anche un certo movimento da parte anche di alcuni personaggi che cinque anni fa erano candidati nel centro-sinistra poi si sono candidati nel centro-destra e probabilmente la prossima volta vanno da Monica Lozzi a chiedere una candidatura perché probabilmente è rimasta solo quella per cui evidentemente lascia un po' il segnale di quelle che sono poi i grandi temi oggi sotto il commissariamento da parte di da parte di alcuni sinceramente a questa discussione io vorrei non stare e vorrei non starci perché perché veramente è deprimente di fronte a tutto e di fronte ai cittadini soprattutto io vorrei che in realtà noi si parlasse delle macro aree dei grandi temi che comunque caratterizzano anche la discussione di quello che ha portato oggi la situazione del comune di Roma qui c'è un'armonizzazione del bilancio che è la battaglia vera e doveva essere la battaglia vera di questa consigliatura che purtroppo non si è stato in grado di fare cioè per quale motivo i municipi anche stavolta sono stati relegati ad essere in molte occasioni i passacarti di non si sa quale meccanismo che veniva dall'alto il tema della legge di stabilità dell'armonizzazione di bilancio del decentramento amministrativo era ed è ancora una reale battaglia su cui i municipi devono camminare a manforte faccio una provocazione proprio tornando a bomba su Furo Camillo io penso che la soluzione sia quella di chiudere la strada e i cittadini non devono più camminare lì ovviamente chiudere la strada significa che ai cittadini va data un'alternativa se le forze politiche tutte sono in grado domani mattina di andare a Furo Camillo chiudere la strada e spiegare ai cittadini che la strada va chiusa perché non è in sicurezza ed è giusto poi però bisogna stare lì quando la reale alternativa in un quadrante compromesso di quel tipo non può essere proposta per cui penso che anche questo sia un elemento di discussione poi se le priorità devono essere le moschee io non so che moschee si riferiva alla consigliere che mi ha preceduto forse a quei scantinati che ci sono nel nostro municipio dove alcuni sono costretti a pregare appunto in dei garage tra cui il consigliere aggiunto che era qui in quest'aula c'è una moschea via di villa io ci sono andato conosco anche alcune persone che pregano lì bravissima gente e grandi lavoratori che pregano appunto in un garage io penso che il giubileo per quanto mi riguarda sia il giubileo della misericordia non il giubileo dell'esclusione e dello sgombero e della paura per cui insomma penso che sia questo un elemento già di discussione grande su quali siano le reali priorità in questo momento concludo dicendo che lancio l'allarme che era già stato lanciato anche prima del commissariamento e che però non mi sembra che ad oggi anche gli altri municipi lo stiano sottoponendo a tronca o al commissario parliamo di municipi parliamo di decentramento io non avrei voluto che i municipi comunque andassero da tronca e dire siamo a disposizione secondo me il tema doveva essere un altro secondo me il tema era proprio quello di dire ok la situazione è questa la politica è stata sconfitta perché si è dovuti andare dal notaio per tutte le ragioni che sappiamo come la rilanciamo l'attività politica cioè come lo rilanciamo il ruolo dei municipi questa è la domanda che noi ci dovremmo porre oggi e sinceramente in questa discussione non mi sembra che ci sia una risposta per cui io spero davvero ma è una speranza insomma che che il commissario recepisca quelle che sono le istanze dei municipi e lo spero davvero vivamente perché se non riusciamo nemmeno a fare questo penso che sia davvero una sconfitta più che definitiva però dobbiamo renderci conto anche che oggi è la goccia di una storia che è iniziata tanto tempo fa insomma e questo purtroppo dobbiamo dobbiamo darne atto tutti spero una responsabilità davvero di tutte le forze politiche affinché alcuni processi possano essere invertiti grazie grazie consigliere consigliere Cofono consigliere Valdaga prego grazie presidente un saluto al presidente agli assessori presenti a tutti i colleghi io mi unisco al consigliere al collega Cofono nell'augurare nel dare il benvenuto al nuovo assessore Diego Ciarafoni nell'augurargli un buon lavoro e dando fin d'ora come gruppo politico la massima disponibilità a poter lavorare e collaborare insieme sulle tematiche per le quali alla delega come pure visto che non c'è stata occasione come gruppo politico ci piace ringraziare e ricordare l'ex assessore Loris Antonelli per il lavoro svolto in questo municipio in due anni un lavoro che secondo noi è stato improntato ad una massima utilità per le scuole e per il territorio e quindi ci fa piacere davvero ringraziarlo venendo all'argomento in oggetto sarò molto breve augurandomi anche che tutti i colleghi d'ora in poi visto che abbiamo molti punti all'ordine dei lavori io capisco che l'opposizione fa il proprio lavoro e cerca ovviamente di far emergere improbabili contraddizioni o controsensi in questo documento ma secondo me bisogna anche essere un po' corretti soprattutto nei confronti di chi ci ascolta di chi ci guarda di chi non ha in mano questo documento nel quale finora da quello che è emerso sembrerebbe che qualcuno si è messo di nascosto a scegliere alcune priorità pescandole da chissà dove e chissà in che modo tra l'altro insomma ho sentito insomma anche qui capisco che fare il proprio lavoro di opposizione però anche stare sempre poi a solleticare la pancia di alcuni cittadini mostrando che si cerca di fare delle delle contrapposizioni tra cittadini di serie A e di serie B addirittura insomma favorire i centri sociali rispetto ai ragazzi disabili insomma credo sia questo abbastanza scorretto e soprattutto falso nei confronti del documento perché se io vado a leggere questo documento che poi insomma ne stiamo parlando ma mi viene il sospetto che non tutti abbiano letto tutte le pagine del documento il documento inizia così in primo luogo quindi il primo capitolo è risorse umane in primo luogo corre l'obbligo di evidenziare primariamente come la dotazione di risorse umane assegnata al municipio e così via quindi la prima segnalazione che si fa è sulle risorse umane e in commissione bilancio che ho l'onore di presiedere di presiedere ne abbiamo parlato più volte dei problemi che abbiamo sulle risorse umane del municipio che significa questo? privilegiare gli uffici rispetto ai cittadini Francesco non ci abbiamo il documento quindi se tu muovo leggi io non ce l'ho non c'è scritto tu no qualcuno ha detto che l'ha avuto e l'ha commentato quindi mi riferisco a chi l'ha letto quindi ognuno poi saprà se l'ha letto o non l'ha letto chi non l'ha letto mi dispiace che non l'abbia letto chi l'ha letto però l'ha letto quindi mi baso sul documento quindi in primo luogo le risorse umane risorse umane beh devo dire Fulvio mi dispiace anche se nel gruppo qualcuno c'era e qualcuno c'era non posso risponderne io insomma questo me lo consentirai per favore che significa privilegiare gli uffici rispetto ai cittadini beh credo sia un pochettino mio per dare questa visione se non si riconosce che il funzionamento degli uffici è a beneficio dei cittadini quindi evidentemente abbiamo un ufficio commercio in sofferenza il direttore ce l'ha riconfermato venerdì in commissione abbiamo un anagrafico con dei problemi quindi se gli uffici non riescono a funzionare è chiaro che chi ne è danneggiato sono i cittadini questa è la prima parte secondo capitolo diciamo ci sono i centri sociali ci sono i luoghi chissà quali no spesa sociale in secondo luogo deve rilevarsi come anche le risorse finanziarie assegnate si presentino sottostimate e c'è tutto un elenco che riguarda il sociale quindi dire che si è andati a privilegiare degli aspetti rispetto ai poveri bambini disabili ora veramente dirlo anche così sembra un po' però tirare fuori certi argomenti in quel modo insomma francamente sembra proprio null'altro che strumentale ma è evidente quindi quali sono state le priorità indicate le uniche priorità indicate qui sono state risorse umane cioè funzionamento degli uffici e per i servizi da erogare ai cittadini e il sociale dopodiché e insomma il testo lo dice bene c'è edilizia e lavori pubblici quindi ritirare fuori la manutenzione ritirare fuori la sicurezza delle strade è qualcosa che è già indicato qui da ultimo da ultimo debbono segnalarsi una serie di opere pubbliche chi le ha scelte queste opere pubbliche nessuno è quello come è specificato bene oltre cancellate per armonizzazioni o bloccate per il patto di stabilità quindi erano opere già presenti di cui parliamo da anni e opere di cui sono opere che sono state bloccate definanziate che sono state fermate per armonizzazione di bilancio è tutto quello che già sappiamo quindi semplicemente gli uffici hanno rimesso in fila una serie di questioni ancora irrisolte e tutte queste sono state poi indicate al commissario ma insomma in un ordine che è ben diverso da quello che è stato fin qui segnalato poi sulle modalità sulla condivisione ognuno ovviamente potrà avere il proprio parere però ecco credo che occorra correttamente descrivere un po' quello che appare in questo documento e le modalità che l'hanno prodotto grazie grazie consigliere Daldaca consigliere Matrono lo prego buongiorno a tutti un saluto all'assessore nuovo mi sarei aspettato un intervento un po' più più abbondante che dire solo nome e cognome e data di nascita magari un microprogramma di quello che vorrà fare in questo municipio però giustamente ho capito doveva portarlo avanti nome e cognome arrivederci e grazie comunque assessore le auguro buon lavoro se questo è il buongiorno ok e adesso andiamo al dunque dunque ringraziamo la Presidente intanto che ci ha convocato per linalmente dicendoci quello che bolliva in pentola come effettivamente eravamo stati trattati dico come parte politica perché è questo perché giustamente la Presidente non essendo stata convocata la prima volta si è risentita si è risentita perché diceva come mai ha convocato il direttore e non ci ha convocato e certo che fa male sentirsi dire sentirsi convocati e noi sono due anni e mezzo che subiamo la stessa cosa che la Presidente purtroppo non parla con noi parla con altri e con noi non ci parla quindi ben venga il Commissario Tronca che ha fatto capire alla Presidente come funziona e come si soffre forse stando anche all'opposizione quando non veniamo ascoltati tornando alla lettera credo che il problema non sia tanto la lettera perché in sei mesi noi dobbiamo capire quello che vogliamo fare in sei mesi perché tanto dura questo subcommissario a meno che non spostiamo le elezioni del 2017 visto che abbiamo problemi dell'isis terrorismo mafia capitale che si deve concludere avremo una serie di problemi non indifferenti e quindi per me per me non vedo non vedo omaggio come obiettivo per le elezioni io personalmente personalmente eh personalmente me sbaglio sicuramente me sbaglio però comunque noi dobbiamo capire che cosa fare in questi sei mesi questa lettera questa lettera che poi come dice il consigliere la daga è un elenco allegato non sono state scelte ma non credo che qualcuno si è messo sui muri a scrivere quello che era quello che è stato riportato in una lettera qualcuno ha suggerito o qualcuno ha deciso di inserire alcune cose all'interno di questa lettera che sono molte sono condivisibili altre meno e altre diciamo potevamo anche aspettare anche se l'abbiamo saputo adesso che erano queste queste elenco non l'abbiamo mai saputo prima quindi noi dobbiamo fare secondo me visto che non abbiamo più quel sindaco un sindaco che no dettava che magari attraverso i suoi consiglieri faceva cadere sul nostro territorio alcune situazioni alcuni problemi da risolvere e quindi vestivano magari più di sinistra che di politica in generale adesso non essendoci più il sindaco non essendoci più i consiglieri credo che il discorso noi dobbiamo cambiarlo dobbiamo fare un fronte comune tutti quanti destra e sinistra e cercare ripeto sei mesi sono molto molto pochi per risolvere questi problemi ma cercare di risolvere almeno quelli risolvibili ma facendo un fronte comune non facendo una marchetta scusi cioè fare fare un fronte comune per far sì risolvere problemi con trasparenza e con legalità cioè una trasparenza che dico quando si dice quando io dico un esempio stupido Viale e Spartaco da anni e anni parcheggiano sui marci al centro dello square da anni sulla terra quando piove quando piove sono impossibilità proprio chi lascia la macchina parcheggiata è impossibile da riprendere non può riprendere è possibile per quanta franchiglia c'è io questo all'assessore Morgia gliel'ho detto gliel'ho ridetto gliel'ho ridetto quando era assessore nel 2008 2008 2010 e mezzo no gliel'ho ridetto quando eri diventato assessore ma sempre sempre le solite cose quando si mischia poi che cerca di di non farmi capire ma io capisco bene non siamo riusciti a metterlo nel programma a mettere nel programma un minimo di intervento su quell'area eppure un'area che sta diciamo nel municipio un portale una strada importante vedere la gente che casca dentro al fango perché forse voi non la vedete però vedere la gente che quando ci stanno queste accazioni non può prendere la macchina e vedere un municipio che non interviene e mi dice guarda dice quella strada purtroppo quella è verde pubblico non possiamo intervenire è verde pubblico non possiamo intervenire e dico perché se è verde pubblico allora vi è andato anche parcheggiare se è verde pubblico tutti gli utenti stanno tutti in contravenzione poi andiamo su via cartaggine dobbiamo rifare il parcheggio a via cartaggine quindi stava in questa famosa lettera era una di quelle priorità che è stato bloccato e dico ma perché via cartaggine rifare un parcheggio a via cartaggine quando dietro all'Astre abbiamo un grandissimo parcheggio perché sprecate qui i soldi quando possiamo utilizzarli se ci sono i soldi e se vengono perché questi sono soltanto messaggi tanti soldi non arrivano i lavori non si faranno perché se è vero che andiamo a votare a maggio il nostro subcommissario non ci farà assolutamente nulla per quanto riguarda gli sfratti si parla di sfratti sapete via fraustiricone sono iniziati non so gli avranno detto presidente che sono un po' di giorni che la polizia sta intervenendo sul via fraustiricone addirittura c'era un appartamento adibito a come si dice brand fast non riescono brand fast una cosa del genere io non lo uso ci facevano addirittura addirittura occupata abusivamente sul sito c'era tanto di pubblicità e nessuno interveniva oggi stamattina hanno sgombrato un altro negozio hanno messo in sicurezza un altro negozio continua la polizia a fare quello che ci aveva promesso la polizia ma non il nostro prefetto che la prima volta ci ha promesso la seconda volta ha detto non si può fare niente adesso vi mando il subcommissario anzi vi mando il commissario vi mando il subcommissario vedrete che lui interverrà e quindi via Fredo Siricone è un noto che stiamo sciogliendo piano piano ci è voluto tempo ci sono voluti anni perché abbiamo aspettato fino all'ultimo abbiamo degli insediamenti che io ho già detto che hanno prioritari e però non riesco a capire perché c'è una legge regionale che ti dà dei fondi non riesco a capire perché noi in questo municipio non applichiamo quella legge per la lotta all'abusivismo edilizio abbiamo via del quadraro è nata una città un paese un paese con tanto di muri tanto attaccati e mi ripeto qua c'è un archeologo che quindi non so il danno che possono fare questi attaccandoci addirittura agli archi con l'asfalto tutto quanto e tutti stanno zitti e buoni e questi continuano a costruire continuano a far parcheggio continuano a metterci ricambio ma stanno facendo di tutto però è una cosa che va avanti da anni ma non ho mai sentito uno di destra e di sinistra dire facciamo qualcosa ma non perché io ce l'ho con gli abusivi ce l'ho con gli occupanti ce l'ho con la legalità per me non è bello che chi viene a Roma straniero comunitario può fare quello che gli pare non si può fare ci stanno delle regole non è che io posso venire a casa posso venire qui al mio quartiere tiro su una baracca la faccio diventare cemento tanto che nessuno mi dice niente poi io faccio la pensilina arrivano con l'elicottero e mi sparrano dall'alto perché questo sta succedendo perché se voi andate a guardare le dd le dd di abbattimento non parlano di grosse opere o di opere moderate parlano di pensilina di piccionaglia ecco queste sono le dd che noi mettiamo al nostro municipio di abbattimento ma non ho mai visto una dd classica ho visto soltanto lo smorso di via del quadraro forse il muretto l'abbattimento del muretto perché hanno visto che c'è un muretto c'è un minuto sì lo so lei corre sempre con me la ringrazio va bene non è colpa mia questa era soltanto perché tanto tanto ho sentito quell'altro che ha detto chiudiamo fuori Camillo ma come il marciapiede è rotto e chiudiamo la strada cioè il danno sta sul marciapiede chiudiamo la strada ma stiamo fuori stiamo proprio fuori da ogni concezione da ogni da ogni veduta si è sempre parlato di questo marciapiede di queste belle betonelle queste lastre che si muovono e noi chiudiamo la strada perché non è a norma questo è quello che ci passa al municipio e giustamente ce lo teniamo comunque per quanto riguarda quei punti ho detto sono condivisibili noi credo se lei se lei scende dalla sua torre così in modo buono però e ogni tanto come ci ha parlato a uno a uno ultimamente lo fa un po' più spesso e magari cerca un dialogo con noi come lo cerca come giustamente lo sta cercando lo sta ritrovando con la sua maggioranza noi siamo ben disponibili ad aiutare non lei ad aiutare questo municipio affinché si risolva affinché vengano risolte spero quelle minime opere primarie che noi abbiamo richiesto da anni da anni ma quelle che che poi interventi minimi e lievi servirebbero da poco perché tanto grandi opere grandi interventi non possiamo farla signor Presidente non ce lo permettono non abbiamo questi perché ormai la parola d'ordine al nostro comune non abbiamo i soldi qualsiasi cosa che chiediamo se io vado da Morgia voglio chiudere la buca non c'è stanno i soldi e poi vado a far marciapiede e dico porca miseria grazie aspetta ho finito grazie consiglio e l'ultima volta abbiamo fatto consiglio Cominio finalmente stiamo facendo consiglio Cominio tutti contenti felici però non riusciamo a sbloccare l'appalto sugli attraversamenti cioè io sono quattro mesi che faccio un'interrogazione che ho fatto un'interrogazione all'assessore Morgia e l'assessore Morgia non viene in consiglio a dirmi per quale motivo nell'ex decimo municipio non riusciamo a fare gli attraversamenti tutte le strisce sono tutte scolorite grazie perché non viene a rispondere grazie verrà a rispondere verrà grazie consigliera Vitrotti prego ah no scusi c'è il consigliere Coia allora penso che uno degli argomenti più citato qui indirettamente sia sempre il decentramento amministrativo abbiamo visto due due regolamenti e la maggioranza del consiglio fa alla fine sempre o spallucce o da spalla a dei regolamenti vuoti che non dicono nulla quindi diciamo che è molto triste poi invocare il fatto che questo consiglio non ha poteri quando poi è questo stesso consiglio in maggioranza che per due anni e mezzo ha come dire avallato il comportamento di Marino nel annullare o dare delle briciole ai poteri del municipio quindi questo è il primo elemento di attenzione allora poteva essere un discorso politico sono cambiate le geometrie politiche con il commissario a noi non interessa a noi noi volevamo un vero decentramento prima e vogliamo un vero decentramento adesso vogliamo capire quali siano i poteri di questo consiglio se vanno mantenuti veramente se il commissario ha interesse ad avere dei veri consigli se la presidente ha veramente interesse che ci sia un consiglio ed un'opposizione che sollevi la sua attenzione su delle problematiche che magari gli sono sfuggite o che alla maggioranza sono sfuggite quindi alcuni interventi dei precedenti consiglieri non mi sono piaciuti perché sono un po' diciamo in contrasto con il comportamento degli ultimi anni e allora esorto tutti ad essere coerenti a pretendere da tutti che siano dalla loro parte politica o da altre parti i poteri che servono per poter dire domani io avevo la forza per fare questa e l'ho fatto non dire io purtroppo non potevo fare niente perché non avevo i poteri e piangersi addosso e non ho i soldi per fare le strade e non ho i soldi per fare gli asili e non ho i soldi per vogliamo passare la storia come anche i precedenti consiglieri e assessori e tutti i poteri esecutivi e politici che non hanno potuto poverini fare questa cosa il piangersi addosso è una cosa che io non ho mai sopportato potremmo passare alla storia come quelli che dicono al commissario allora che cosa dobbiamo fare noi qui abbiamo dei veri poteri o no e se la risposta è no gli diciamo allora per favore ci commissari ci chiuda perché non siamo qui a fare i pagliacci non ci piace fare i pagliacci abbiamo fatto questo mestiere perché vogliamo essere dei rappresentanti dei cittadini vogliamo farlo con coerenza vogliamo farli con dignità poi se entriamo nel merito delle priorità è vero che queste rappresentano come ha detto la presidente le voci di bilancio presenti a bilancio per lavori che andavano fatti però scusatemi ma queste non rispecchiano le criticità di questo municipio perché con tutto l'amore che vogliamo per gli anziani non penso che la ristrutturazione di circolo bocciofilo sia tra le prime priorità del municipio non penso che le ciclabili con l'amore per le ciclabili che abbiamo vengano prima delle voraggini che inghiottano ciclisti automobilisti che poi causano incidenti per strada ci sono altre voci non vedo però quelle che devono essere costituire il primo obiettivo dell'amministrazione che è la salute e la sicurezza e qui mi ricollego dando il benvenuto all'assessore alla scuola ricordo come ho ricordato all'ex assessore Antonelli che la priorità di questo municipio che deve essere di tutta Roma è l'amianto e la salute e sicurezza esistono ancora molti materiali contenenti amianto nelle scuole vanno rimossi al più presto non esiste non esiste il discorso non ho i soldi lì si scrive la catena gerarchica si sale dopodiché dal comune dal commissario si sale su perché c'è la galera su questo non c'è non ci sono i soldi quando qualcuno farà causa si stuferà per queste cose manderà in galera tutta la scala gerarchica da responsabile di salute prevenzione e sicurezza all'assessore alla presidente al sindaco o commissario e giù di là poi ci sarà un altro tisse in gruppo non so mi auguro di no mi auguro che interveniamo prima questo è per la salute a mianto poi c'è il discorso salute e sicurezza come lei ben saprà ci sono i cornicioni che cadono dalle scuole ci sono situazioni di emergenza che vanno risolte immediatamente grazie consigliere ritrotti poi c'è il consigliere ciancio e non c'ho chiuso le descrizioni prego grazie presidente presidente Fantino assessori e colleghi consiglieri è a nome del partito democratico che mi associo ai saluti e al buon lavoro che sono già stati fatti al nuovo assessore rinnovando anche a lui la necessità di coordinarci nei suoi prossimi lavori e la nostra disponibilità ovviamente a farlo per ritornare invece alla discussione che diciamo c'è stata e nata dalla richiesta da parte di alcuni consiglieri di essere qui appunto a confrontarci su alcune priorità vorrei dire cose diciamo di carattere molto generale però credo che servano delle premesse perché se noi facciamo e richiediamo questi consigli poi io immagino e mi auguro che si venga qui almeno con diciamo un minimo di preparazione quindi che almeno ci sia stata un'attenzione rispetto al documento che si non si è capito come avete non l'avete avuto o l'avete avuto però insomma qualcuno mi sembra che sia invece stato informato rispetto al contenuto quindi questo aiuterebbe diciamo ad evitare una discussione che prima di tutto in questo momento non credo che ci serva perché se poi da quanto sono riuscita a capire oggi tutti chiedete invece di fare un fronte comune questo diciamo vabbè insomma no le richieste sono state diverse non solo le sue quindi immagino che poi alla fine a stringere si arriva tutti diciamo ad una sintesi invece efficace proprio perché siamo in una situazione abbastanza complicata cioè non è che noi abbiamo parlato di commissariamento come se non fosse successo niente se c'è un commissariamento evidentemente la città di Roma aveva un problema e quindi se ci troviamo in una situazione di questo tipo e se è stato chiesto di riaggiornare delle priorità che è ovvio che si limitano ad una fase temporale non è che noi ci possiamo oggi stare ad attaccare a chissà quali diciamo invenzioni per diciamo avere così un tono dentro una discussione che è molto più complicata questo lo dico perché se appunto si venisse in aula diciamo così preparati si eviterebbe di dire cose senza senso no? perché poi quando si parla di un pezzo di municipio che non viene considerato oppure si tende a far credere che ci siano dei cittadini di serie A e di cittadini di serie B io questo attacco nei confronti dei anziani non l'ho mai capito però qui non è che si parla degli anziani di Anagnina e quelli di Cesare Barogno invece no qui si parla di una criticità relativa all'assistenza della popolazione di anziani così come ad un intervento sull'emergenza abitativa che come sappiamo nel nostro municipio l'abbiamo anche affrontato in questo consiglio non è che sta solo nell'extra gra sta anche vicino alle mura di San Giovanni per essere insomma diciamo i problemi purtroppo e non perché questo ci debba far diciamo non ci deve far distrarre rispetto alle questioni però purtroppo le questioni vanno su tutto il perimetro del nostro municipio quindi quello che io trovo scritto qui diciamo non è che mi stupisce più di tanto perché forse sono le cose che ognuno nelle nostre sedi nelle nostre commissioni vedo alcune cose insomma che io conosco da un po' di tempo perlomeno da quando sto qui e quindi mi immagino che un po' tutti sapevamo quali erano perché se così non è mi preoccupo ancora di più soprattutto da parte di chi in questo consiglio siete da diversi anni quindi insomma che non si conoscano le priorità del municipio e si faccia appello a chissà quale altro punto programmatico attaccarsi insomma mi preoccupa un po' per tutto il resto io l'unica cosa che mi auguro è che in questo momento almeno siano focalizzate alcune cose con questo cioè la macchina seppure sia inceppata perché è ovvio che il ruolo del commissario e dei subcommissari e quindi l'interlocuzione con i municipi se penso ad esempio alla questione sanitaria diventa molto preoccupante in questo momento e il pensiero che magari un subcommissario possa addirittura essere il sostituto della rappresentanza perché se i municipi stanno qui e hanno deciso di non sciogliere evidentemente un motivo ci sarà nonché perché è previsto anche dal regolamento e dallo statuto del consiglio comunale ma è evidente che tutte le funzioni e le persone in carica dalla presidente fino alla giunta e tutti i suoi consigli devono essere presi in considerazione quindi quello che mi auguro è che questo consiglio nei prossimi mesi abbia quantomeno visto immagino che la scadenza temporale sia diciamo breve quantomeno abbia in mente quali sono le vere le priorità sulle quali veramente non possiamo distrarci e deve andare dritto lì tutto il resto mi pare un'inutile verdita di tempo grazie grazie consigliere Trotti ultimo intervento consigliere Ciancio sì grazie presidente volevo anche io unirmi a fare gli auguri in qualità di presidente della commissione scuola al nuovo assessore è un lavoro difficile anche se come dire la situazione è drammatica per i plessi scolastici per cui ho visto che lei un altro giorno mi ha ricevuto era subito al lavoro per capire bene la situazione quindi mi auguro che si possa lavorare serenamente per il bene dei nostri piccoli utenti io non so se è possibile naturalmente condivido la relazione della presidente nel senso che era un atto dovuto quello di chiedere che le opere che ahimè venivano stralciate o poste fuori dal patto di stabilità venisero cancellate per cui è un atto dovuto quindi ne condivido pienamente so che il giorno dell'incontro il prefetto non ha richiesto ancora la nota con tutti gli interventi prioritari so che i subcommissari hanno avuto le deleghe da poco quindi non c'era stato il tempo di consegnarla però il nostro municipio è stato pronto a fare una relazione dettagliata e puntuale forse chiedo troppo magari sarò come dire sgrammaticato ma perdonatemi per per quello che è in questo momento la scuola io direi che se guardiamo ai due bilanci pregressi troviamo degli asili nido all'avanguardia progettati in via Tommaso Fortifiocca in via Torre del Fiscale e anche presso l'università di Torvergata c'erano soprattutto uno di questi era arrivato al progetto definitivo due volte sono stati stralciati i finanziamenti io non so se c'è il tempo di fare un emendamento o qualche subemendamento a questa nota importante però sono sicuro che potremmo riuscire a fare due cose importanti lo diceva prima il Presidente della Commissione Lavori Pubblici l'ha affrontato in qualche commissione da quello che leggo sui giornali la sicurezza sulla viabilità sulle strade e sui percorsi è importante se abbiamo delle criticità potrebbe farsi lei Presidente portavoce di questo grave disagio facendo sistemare in danno i marciapiedi e sistemare la vicenda dal punto di vista legale dei fallimenti magari dopo due punti che sono solo questi che mi preoccupano per il resto sono tutte situazioni garbate che potremmo affrontare però le scuole più di una volta si ha lo stanziamento ulteriore che è stato fatto per i fondi giubilari si è parlato di pedonali che ha viabilità spazi dedicati ai percorsi giubilari si è parlato di scuole diventa tutta una sicurezza però questi due aspetti per il nostro territorio possono essere importanti possono dare una svolta significativa non è solo via Furio Camillo ma è una zona la zona nord del municipio da Redi Roma via Cervese è una situazione che non si può più tollerare per cui è un'urgenza è un decoro si può chiedere un intervento ulteriore per questi due problemi che sono l'edilizia scolastica e la viabilità per il resto io ringrazio per il lavoro che avete fatto e sono sicuro che i subcommissari sapranno non è che sono venuti perché sono calati dal cielo è successo qualcosa di molto grave per cui sapranno valutare con attenzione le richieste che arriveranno dai municipi e l'urgenza sia per andare verso una sicurezza sia per andare verso l'indirizzo dell'interesse pubblico grazie grazie consigliere Ciancio allora una breve replica del presidente Fantino poi chiudiamo questo punto prego presidente sì grazie allora innanzitutto mi preme partire da una considerazione che più volte ho fatto ma mi rendo conto che spesso non è di facile assimilazione quando poi andiamo ad affrontare le tematiche del fabbisogno del territorio o del perché e per come le risorse arrivano o non arrivano io mi riferisco al fatto che noi abbiamo nella costituzione la spendirevio è una scelta che fu fatta dal governo all'epoca che non era obbligatoria ma che ha messo e sta mettendo in ginocchio soprattutto gli enti locali soprattutto chi poi nei municipi si trova a dover per dare delle risposte concrete al fabbisogno dei cittadini allora se noi questo non lo recepiamo e non lo capiamo non facciamo nemmeno il lavoro di essere chiari con i nostri concittadini ma soprattutto essere chiari con noi stessi sia quando governiamo o sia quando stiamo all'opposizione questo che significa significa che per gli enti locali avete visto avete letto sui giornali c'è stata e ci sono stati anche presidenti di regione che hanno rappresentato il problema ci sono continuamente situazioni in cui ci troviamo a doverci confrontare con le conseguenze della spending review nella Costituzione c'è il discorso che la Corte dei Conti attraverso un suo magistrato in questo momento chiede e pretende che tutto ciò che è patrimonio pubblico debba essere considerato in termini di valore di mercato dunque sottraendo a chi governa gli enti locali territori municipi comuni regioni la possibilità di decidere se la destinazione di un bene nella trasparenza attraverso tutti gli strumenti che vogliamo possa anche o possa essergli data anche una valenza e un valore sociale e dunque assolutamente sottraendolo al suo valore di mercato allora questo che cosa significa significa che noi oggi municipio quando parliamo e vorremmo fare dovevamo fare abbiamo avuto lo stanziamento o non ce l'abbiamo avuto per esempio l'armonizzazione che cos'è la parola è molto bella purtroppo è una parola che porta con sé il dire si deve tagliare laddove benché un bilancio sia stato tra l'altro dopo anni e anni e anni per la prima volta avevamo approvato un bilancio a marzo e non alla fine dell'anno come era successo nella passata consigliatura bene quel bilancio approvato a marzo nella diciamo seguendo le prescrizioni frutto anche di un irrigidimento necessario frutto di tutto ciò che è successo dal punto di vista della corruzione mafia capitale e quant'altro ha fatto sì che oggi noi benché approvati in bilancio una serie di interventi se non eravamo in grado di chiudere l'ultimo intervento entro il 31 dicembre la ragioneria non ha permesso o non ha garantito la stipula del bando e dunque la realizzazione per questa ragione prima sentivo che chi parlava e figuriamoci la reazione anche nostra della segnaletica orizzontale noi abbiamo anche avuto il difinanziamento di fondi per la segnaletica orizzontale questo alla luce di una situazione in cui tutti gli enti locali perché non si può assumere non è che solo Roma non ha coperto i vuoti dovuti al pensionamento tutti gli enti locali in questo momento in Italia non hanno non possono assumere nuovo personale perché anche lì vige la legge della spendi review del costo eccetera eccetera dunque questo significa che noi anche per progettare anche per lavorare i nostri dipendenti oggi facevamo i conti rispetto all'ex decimo municipio dal 2007 a oggi mi dicevano sono meno dieci persone che lavoravano ai lavori pubblici esclusivamente allora questo qualcosa vorrà anche dire allora io ritengo che è importante riflettere perché sono molto convinta come hanno avuto modo di rappresentare sia la minoranza che chiaramente la nostra maggioranza l'importanza del decentramento perché è qualcosa che è stato a cuore in tutti questi anni soprattutto da quando nel 2001 si è deciso per l'elezione diretta dei presidenti e dunque anche riconoscendo l'inizio di quello che si sperava un domani diventasse quel governo di prossimità con maggiori poteri maggiore capacità anche di dare una risposta ai signori credo che mi sembra di aver capito vengono da Grenia e giustamente rappresentano tutto quello che Grenia in tantissimi anni non ha ottenuto il problema il problema è che lo dico perché noi avevamo chiesto fra le cose che ci hanno chiesto ma parlo già di parecchi mesi fa che cosa fare con i famosi sanpietrini che venivano tolti al centro storico e avevamo ottenuto che venissero utilizzate però chiaramente insieme ai finanziamenti per intervenire a Grenia sul ripristino di tutta la piazza insomma che stava già all'epoca fra i progetti da realizzare questa cosa è stata assolutamente definanziata ci davano i sanpietrini senza il resto dunque noi da soli con i sanpietrini non abbiamo le risorse per intervenire però il concetto è questo il concetto è questo scusi signora non è possibile il concetto è questo il tema del commissariamento allora Roma sta vivendo una situazione assolutamente unica sullo scenario nazionale perché non solo è la capitale non solo ha circa 3 milioni di abitanti ma è la prima volta che succede che diciamo il comune insomma nella sua amministrazione centrale viene commissariato e i municipi 15 mantengono diciamo le loro funzioni frutto del mandato dato a loro dai cittadini allora io credo che questo ibrido che questa situazione assolutamente inedita ci debba ricondurre a noi diciamo consiglieri presidente che hanno avuto il mandato dei cittadini a dare il valore giusto e necessario importantissimo in una fase in cui purtroppo laddove qualsiasi realtà per qualsiasi ragione che viene commissariata significa che c'è stata una in qualche modo restrizione o negazione della propria e del proprio mandato dei cittadini dunque di qualsiasi esperienza e spazio democratico questo lo dico perché se ce lo scordiamo corriamo il rischio che non capiamo che cosa ci sta succedendo allora nel rapporto con chi è stato diciamo comandato per fare il commissario straordinario a Roma dunque il dottor Tronca noi ci siamo rapportati pensando di rappresentare comunque la cittadinanza per esempio di ogni municipio c'è un dato che mi sono scordata di dire prima dopo la lettera che era stata mandata dal segretario generale a tutti i municipi chiedendo scusate e poi successivamente convocando solo i direttori dei municipi alla quale molti presidenti abbiamo risposto oltre che con la nostra presenza successiva anche con una lettera firmata insieme ai direttori dopo la riunione fatta con il commissario e i subcommissari è arrivata un'altra lettera del commissario di nuovo diretta solo ai direttori in cui si richiedeva di nuovo le priorità a questa lettera il nostro direttore correttamente senza diciamo in questo caso nessuna doppia firma ha risposto con l'allegato della precedente relazione che era stata invece inviata con la doppia firma questo che cosa significa può essere una svista può essere una disattenzione può essere dovuto al fatto che in questo momento il commissario è concentrato sul giubileo eccetera eccetera però è importante che noi capiamo qual è la situazione che cosa dobbiamo difendere che cosa stiamo difendendo sia che lo faccia la maggioranza sia che lo faccia la minoranza poi parallelamente diceva prima nel suo intervento la consigliera Cerconi parlava di questo elenco che ha così sorpreso delle problematiche qua ci sono delle problematiche che chi fa parte dell'ex nono o dell'ex decimo municipio come ha detto il prefetto Gabrielli nell'assemblea prima e nell'assemblea seconda alcune datano da un bel po' di anni ok per quelle che riguardano il mio ex municipio ce l'ho chiare perché le conosco e mi batto da parecchio tempo per quelle che riguardavano l'ex decimo le ho acquisite quando mi sono insediata e indistintamente me ne sono fatta carico e vorrei spiegare una cosa il problema di Rosso 2000 cortocircuito non è mica una cosa che l'ho scelta io è all'attenzione ed è una delle priorità per il prefetto Gabrielli perché esiste anche un tavolo per l'ordine e la sicurezza in questo municipio come in tutti gli altri municipi e fortunatamente il prefetto Gabrielli ha dato dimostrazione anche di una cultura direi democratica e di rispetto del diritto e in un'assemblea pubblica fatta in questo municipio se qualcuno era presente se lo ricorderà ha fatto proprio ha dato anche un riconoscimento al ruolo di presidio sociale democratico e culturale di tantissimi in realtà fra cui anche quella del cortocircuito e infatti se ne è interessato personalmente ha convocato una riunione in Campidoglio e successivamente con i fatti che tutti noi conosciamo al momento si stava aspettando la definizione delle deleghe che anziché arrivare entro le 48 ore come aveva promesso il commissario straordinario a tutti noi presidenti è arrivata dopo dieci giorni questo per me non significa altro che anche parte delle grosse difficoltà che ha trovato il sindaco Marino all'epoca probabilmente hanno a che fare con una città molto complessa molto difficile e difficile per tutti dunque questo lo dico per capire e noi che siamo in qualche modo addetti ai lavori ma abbiamo anche il mandato dei cittadini dobbiamo fare uno sforzo di trasparenza nel senso di ciò che spieghiamo e ciò che diciamo ma anche di quello che pretendiamo di dirlo e considerarlo nella giusta misura se no facciamo di tutta l'erba un fascio e poi finalmente non facciamo un buon servizio né a chi ci ha eletto ma tantomeno a noi stessi perché non cresciamo politicamente non sappiamo dirimere e scegliere quello che è prioritario da quello che è secondario e finisco dicendo questo questo che noi abbiamo fatto qui è frutto di questioni che non sono risolte da un punto di vista procedurale via polia non so sfido chiunque a dire che non deve rientrare nelle priorità perché sinceramente un bene che dovrebbe essere acquisito al patrimonio comunale che è lì realizzato e che per tutta una serie di ragioni di carattere burocratico insomma sono mille non si riesce a risolvere beh io sinceramente penso che fa parte delle priorità di questo municipio il fatto che ci siano delle situazioni legate all'emergenza abitativa se qualcuno mi viene a dire che in questo municipio non ci sono persone famiglie anziani che permanentemente vengono sfrattati e fortunatamente devo dire che l'esperienza che sto facendo con le forze dell'ordine nel tavolo per l'ordine e la sicurezza mi ha permesso di valutare e rivalutare perché molti di loro fanno dei lavori ottimi o perlomeno hanno anche una sensibilità e spesso sono elementi diciamo che ci aiutano a non mettere per strada le persone però è un dato di fatto e se la crisi va avanti ancora e il lavoro c'è ancora di meno è evidente che questo per noi deve essere un problema prioritario dopodiché se ho altri problemi che sono legati invece a questioni di ordine più chiamiamolo così di patrimonio mettiamola così perché Arco di Travertino è un anch'esso abbiamo speso 30 milioni di euro per la realizzazione di un nodo di scambio che insomma non dovrebbe più stare dentro come si chiama l'anello diciamo del raccordo anulare perché dal nuovo piano regolatore non doveva essere più così ma c'è c'è da una vita è stato costruito noi abbiamo chiesto la casa della della salute grazie questo da anni purtroppo non abbiamo avuto modo di avere né una risposta negativa né una risposta positiva casa della salute tra l'altro importantissima in tutto il territorio del settimo municipio che insomma ricordo a tutti noi che siamo quasi la città di Bologna e che al momento non abbiamo nessuna casa della salute cioè c'è chissà questa dell'ex decimo municipio che speriamo possa arrivare a diventarlo e c'era la proposta di farne una all'arco di Travertino notizia che ci deve preoccupare perché per ragioni sempre come ho detto all'inizio spendi revio tagli eccetera l'altro giorno l'assessora Vicentin della regione ha convocato tutti per dire che insomma in poche parole le politiche dunque le risorse del sociale verranno sussunte dentro la delega alla sanità perché questo perché i tagli perché le difficoltà stanno arrivando a tutti sono arrivati agli enti locali e dunque io ricordo che a chi ha governato deve farsene carico nel senso non supino e non subordinato dunque farlo diventare una lotta è una pretesa una rivendicazione anche perché a me qualcuno me lo deve venire a dire per quale ragione in Italia siamo obbligati a tenere in costituzione ciò che nessuno ci obbliga a mettere ma questo fa parte delle responsabilità politiche di ognuno di noi in base a quello che sceglie ma noi che stiamo negli enti locali lo dobbiamo sapere dobbiamo capire da dove arriva il problema dopodiché nell'ambito di quello che noi potremmo fare e gestire sicuramente ci sono due cose una che il nuovo subcomissario avrà il resoconto chiaramente di tutte le nostre difficoltà siano quelle legate alle questioni diciamo così di patto di stabilità come abbiamo già detto al commissario tutti i presidenti e sia quelle legate all'armonizzazione più tutte le problematiche che vorremmo poter risolvere o perlomeno una di tutte le problematiche l'altra questione riguarda secondo me anche la nostra capacità di porre il problema del decentramento in un momento in cui Roma dopo tutto quello che ci è successo è evidente che necessita finalmente di realizzare quella riforma che permetterebbe non solo alla città capitale d'Italia ma anche ai municipi diventare nel caso dei municipi quei comuni metropolitani con maggiore potere e maggiore capacità decisionale qualcuno prima diceva quanto contiamo noi consiglieri io su questo sono molto schietta purtroppo i consigli municipali non hanno parere vincolante allora ce lo vogliamo dire ai cittadini abbiamo paura che i cittadini poi non ci prendano più in considerazione quando hanno scoperto che non abbiamo parere vincolante beh io non ho mai avuto paura di questo perché ritengo che il lavoro che possiamo fare è fondamentale perché un lavoro di educazione alla partecipazione attraverso il mandato che viene dato a un governo di prossimità in cui tutti sappiano esattamente come stanno le cose quelle che devono essere modificate e quelle che possiamo invece effettivamente saper utilizzare se no se confondiamo tutto e a secondo come ci troviamo se sto nell'opposizione faccio l'elenco della spesa e tutto quello che potrei fare se sto al governo cerco di nascondere la realtà non ci serve ma penso soprattutto che oggi non serve a nessuno allora io penso che abbiamo nei prossimi mesi qualsiasi siano 5, 6, 7 questo lavoro fondamentale e chiudo qui per dire e dunque diamo anche risposte noi adesso siamo in fase di assestamento ok assestamento che è stato come si dice in qualche modo deprivato da una serie di interlocuzioni che in passato quando in Campidoglio avevamo la politica si lavorava per arrivare a un assestamento sulla base appunto di quelle che potevano essere i dati certi perché se un municipio non sa se potrà se potranno garantirli 100 mila euro 50 o 500 mila euro è difficile che io sappia scegliere la priorità perché se la mia proprietà priorità costa 300 mila euro e la disponibilità sono 100 corro il rischio che mi si dice no se può fare e se fa qualsiasi cosa senza che io abbia potuto avere voci in capitolo allora prima come sempre è successo in passato ci dicevano guardate potrete contare con questo e dunque noi tornavamo a casa e lavoravamo per diciamo adeguare la nostra necessità a quella che era la disponibilità questa roba adesso non è successa io mi auguro invece che con la collaborazione dei cittadini e poi successivamente la definizione da parte del nostro consiglio municipale si possa arrivare garantendo un processo più partecipato che poi metterà tutti nelle stesse condizioni di confrontarci per quanto riguarderà il bilancio previsionale cioè allora ho deciso che noi come giunta cioè dunque i nostri assessori cioè i miei assessori e io ci incontreremo con attraverso un'assemblea pubblica con tutti i nostri comitati comunità associazioni in cui racconteremo lo stato dell'arte sulla base del bilancio approvato 2015 cioè ciò che è stato fatto ciò che è stato definanziato ciò che non è stato o che è stato definitivamente cassato quelle che fa bisogno quello che si pensa o si possa mettere in come si dice in lista di priorità e poi successivamente ci confronteremo con la nostra maggioranza con il nostro consiglio si prenderanno le decisioni di una proposta poi vedremo chi e come la prenderà in considerazione ma a quel punto ognuno avrà fatto il suo lavoro nell'esercizio democratico sia partecipativo ma anche di mandato e di delega che viene dato al consiglio municipale di un municipio grazie grazie presidente abbiamo chiuso questo abbiamo chiuso questo argomento grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti